Non metto le orecchiette perché ci ho provato me le bler. Ciao Bravio! Ci avete fatto incazzare. E cazzo ci avete fatto tornare. Siamo qui perché... Allora, noi ci siamo presi un anno sabbatico. Eravamo forse più lungo. Sì. No, ovvio. Perché volevamo essere più buoni. Tutti ci avevano detto che siamo degli stronzi, che parliamo sempre male degli altri, che i contenuti non si fanno così. E quindi noi abbiamo detto, vabbè, fermiamoci un attimo, non stiamo là sempre. No, infatti no. Tutto al dito. Così. E che è successo? Che avete fatto peggio. Sì, avete fatto peggio, ci avete fatto arrabbiare, noi abbiamo teso la mano e questa mano ce l'avete schiaffeggiata e ce l'avete ributtata dietro. Ma meno male che non ce l'hanno morsa, se non sai che malattie ci pigliavamo. Ci pigliavamo la divite. La divite. La divite, sì. Sì, effettivamente. Vabbè, cattivi, ho capito. Insomma. L'ultima che abbiamo visto è stato un articolo editoriale di Francesco Serino di Multiplayer che proprio ci ha fatto riflettere. Allora, come vi ho detto anche nel post di YouTube, nel Comunica e Post, abbiamo le caselle private di Instagram, di Facebook, la mail. In base. In base. Avete visto che ha scritto Serino? Avete visto che ha scritto Serino? Serino, sì. Tutti voi volete che noi in qualche modo exponiamo, come dicono gli inglesi, ma espelliamo. Infatti, questa volta non saremo noi a commentare. Noi, diciamo, non è che non commenteremo, commenteremo la cosa, però un attimo, cioè, un po' più calmi. Ma sai cosa? Allora, loro, perché anche tanti ci hanno rimbrottato, che siamo stati, con Serino abbiamo fatto i video e non siamo stati lì, a menarlo, a dargli la testa in bocca. Io non ci sarei mai arrivato a dargli la testa in bocca. No, però dipende, da sotto verso il mento. Con la faccia da minchia, forse sì. Vabbè, comunque detto ciò, ci hanno rimbrottato questa cosa, che ho dovuto dire, raga, ma secondo voi, lui lo prendono ad esempio, ma se tutte queste cose fanno schifo, perché poi le leggete sempre e ci venite a dire? Sì. Quindi, ditevi una merda, stavolta vogliamo vedere come vi siete comportati da soli, da bimbi grandi, ribellandovi alle... Diciamo, ci sono stati anche episodi che non ci sono piaciuti, abbiamo letto commenti su alcuni forum, veramente, non li riporteremo però questa volta. No, 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 non li riporteremo, però ci hanno fatto abbastanza incazzare. Siamo legati al dito, non mi preoccupare. Sì, 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 non li riporteremo e poi soprattutto Francesco ci ha un po' trattato male in separata sede sul suo Twitch, era sul Twitch? Ma posso essere onesto e cattivo proprio direttamente così? Allora, c'è stata una questione per il nostro video fatto al Comicon, nel nostro incontro di Serino, in cui noi abbiamo chiacchierato con Francesco e gli abbiamo dato parola. Non era nostra intenzione fargli dire qualcosa per dargli un morso alle gonadi. Voi non avete gradito perché era quello che volevate. Fatto sta però che successivamente, cavalcando quest'onda di noi, che ve lo dico chiaramente ragazzi, abbiamo parlato di soldi, abbiamo parlato di come funziona, abbiamo parlato di tante cose di cui nessuno parla, nessuno vuole che si parli, non l'abbiamo fatto. Qualcuno ha cominciato a togliersi i sassolini dalle scarpe, fino ad arrivare all'apice in cui ci si veniva dati dei che cazzo lo fate a fare, non ci guadagnate i soldi, perché dite queste cose, non siete nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Che è proprio, non inelegante. Cioè, l'inelegante sta qua, sta cosa, sta qua sotto, voi non la vedete. Noi invece siamo stati elegantissimi a dare la parola a qualcuno, che per noi comunque ha una certa valenza, e poi invece ci siamo resi conti nel tempo che fa questo mestiere solamente perché non c'ha nient'altro di cazzo da fare. Anche perché lui si diverte a provocarvi. La mia stima per Serino, io lo ridico tante tante volte su questo canale, non varia, nel senso io continuo a pensare che lui sia un edutto del videogioco, che abbia una profonda cultura storica del videogioco. Io non ce la può togliere nessuno tranne un'annesia quella. Insieme a Raiden, insieme a Pierpaolo Greco, insomma io ammetto che abbiano una grande cultura videoludica, però come persone a volte scadono e effettivamente bisogna un attimo riportare la cosa. Però non saremo noi a farlo oggi, ma sarete voi. E ti faccio solo questo appunto, poi passiamo a vedere come loro si sono difesi dalle cose che non gli sono piaciute. Il fatto che la cultura non si perda, a meno che non ti venga un aneurisma o un'amnesia totale, va bene, ma quella cultura ha valore anche se tu corri dietro ai tempi, perché i tempi cambiano, raga. Perché farmi l'edotto del cazzo su un mondo del gaming, e dopo lo vedremo con l'editoriale, che non esiste più, non esiste più e non esisterà, io farei pure... Non ce l'ho il meme, ma non c'è l'ho già detto. Lo metterò, lo metterò, non ti preoccupare. Grazie al cazzo, lo dico in italiano. Esatto, in questo video faremo due cose. Leggeremo con voi l'articolo, l'editoriale di Francesco Poserino. Ma guarda, è talmente breve che comunque... Ma riuscirà a condensare la testa, zanzato. Vabbè, lasciamo stare. E poi leggeremo i vostri commenti, i commenti riportati su Facebook, perché non vogliamo dire la nostra... Anche se io due fatti li vorrei dire. Ma lo spazio è nostro, facciamo il cazzo che ci vuole. Ma cominciamo subito! Allora, Microsoft, uno show da favola per una console fantasma. Aspetta. Con la sua conferenza Xbox ha lasciato tutti a bocca aperta e a portafoglio chiuso, speciali di Francesco Poserino, 15 giugno 2024. Perché a portafoglio chiuso? Così è. Non lo so. Rispondo roba a sta cosa? Sì. Ok. In un'altra epoca, dopo una carrellata di giochi come quella mostrata da Microsoft nella sua più recente conferenza, il gigante di Redmond avrebbe sfrontatamente tagliato il prezzo della sua console di punta per rilanciarle le vendite. Siamo però nel 2024 e tutto il potenziale visto rimarrà almeno per un po' all'interno di un'immaginaria pentola a pressione verde Xbox e sempre più sul punto di esplodere. Come sta per esplodere lui, mi sa. A parte che non ho capito, cioè Serino si è svegliato la mattina secondo me gli è scoppiata la genovese a casa la pentola a pressione e ha deciso di fare un articolo costolesimo, è venuto male, Francia è venuto malissimo e non solo perché parli di Xbox, male male. Cioè l'ho capito io perché cucino, ma non ha capito nessuno. Ma io non ho capito neanche perché dovrebbe... Perché gli è esplosa la pentola a pressione. No, 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 perché dovrebbe abbassare il prezzo se... Allora, sai cos'è? In questo frangente, in quest'epoca, ora, in questo... I giochi sono su Xbox. Perché su PlayStation nel breve termine non ci saranno cose. Quindi se ora sapete, il videogiocatore sa che ci sono giochi solamente su Xbox, non puoi non andare a comprare una Xbox o farti un Game Pass. Quindi perché tagliare il prezzo di un qualcosa che ha il monopolio, diciamo che ha il monopolio? Ti faccio due domande così spontanee, perché io so che tu rispondi in maniera spontanea e genere. Allora, uno, numero uno, che cosa ha fatto Sony con la sua nuova versione della consola? Abbassare il prezzo? Con la Slim no. Ok, no, quindi... Non l'ha fatto. Non ho capito perché oggi, nel mercato di oggi, Sony non lo deve fare, Xbox lo deve fare. Ma perché Xbox non lo ha PlayStation. Perché mi diranno perché vende meno. Esatto. Aspetta, mi diranno perché vende meno. Ok, farsi il Game Pass oggi, in attesa dei giochi che usciranno nel 2024-2025, costa quanto, secondo te, a occhio? Ma a te che te ne fotte? Il costo del Game Pass costa 150, vuoi esagerare a 300 euro o meno. Ma questo è un altro punto, a te che te ne fotte quanto costa il Game Pass? Se Xbox vuole dare questo servizio in perdita, come lo ha dato Dazone, come lo ha dato Netflix, a te che te ne fotte? Se tu oggi... Ma tu non sei un azionista Xbox? No, sto rispondendo alla domanda di Serino, che dice... Ma lascialo stare! Perché non ha abbassato il prezzo? Perché ti fai il Game Pass? Sì? Che costa meno dei giochi? Sì? Punto, finito. Ho capo al piede! Cioè, no, aspetta. Ragazzi, fa... Oh, cazzo! C'era qualcosa di elettronico? Eh, no. Ok, allora lo stai a posto. No. Rotolone. Eh, ragazzi, purtroppo è una zona buia, io c'ho la cataracca. Perché devi abbassare il prezzo? Se io oggi sono l'unico che ti dà i giochi, paghi. Avete sempre detto che la qualità si paga, ma perché io ve la devo scontare questa qualità? Sì, ho capito, ho capito. Sì, infatti, per me vince sempre il fatto che in questo momento i giochi sono su Xbox, non sono su PlayStation. PlayStation, se vogliamo fare una previsione, da qui a tot tempo, anche due anni probabilmente. Basta un anno. Io ti dico di più, perché comunque sia, devono iniziare dei progetti nuovi, a meno che non li abbiano già in cantiere. Adesso lo sapete tutti che sviluppare un gioco chiede tempo, e quindi è almeno di due, tre, quattro anni. A meno che tu non sia, tu videogiocatore, non sia un fanboy, vuol dire che in questo momento a voi dei videogiochi non ve ne fotte un cazzo. Oh, qualcuno l'ha detto, basta fa. Se oggi stiamo discutendo del perché, del come mi devi mettere in condizione, mi devi svendere una Xbox, perché per me è già un onore che te la sto comprando. Con 30 giochi mostrati in un'ora di showcase, ragazzi, che usciranno in 18 mesi, non vedono giochi da due anni, se non tre, porcaccia, la miseria. Significa che sei un fanboy del cazzo. Assolutamente. Quindi, i videogiochi... O non ti piacciono i videogiochi. Se in questo momento una realtà come Xbox dovesse fallire perché non è sostenibile, vuol dire che il videogioco... Non gioca più. No, no, perché non avrebbe senso. Ma soprattutto, voi siete azionisti Xbox? No, nessuno. Che ve ne fotte di fare le pulci? Non vale la pena. Che ve ne fotte di fare le pulci? Se Netflix vuole vendere il suo prodotto a 170 euro perché tra cinque anni fallirà, ma sono cazzi vostri? No, ma soprattutto ricordiamoci che quest'anno la cosiddetta concorrenza che domina ha fatto un... Non solo quest'anno, negli ultimi tre anni, ha attuato le pratiche di mercato che vogliono dire una sola cosa e chiedete a qualsiasi analista, se non volete credere a me, significa profitto e basta. Non c'è bisogno di qualità, non c'è bisogno di valore aggiunto, perché il valore aggiunto ce l'abbiamo già, perché siamo PlayStation, la gente ci compra pure se facciamo la cacca. Guardate il cazzo del portal, guardate il cazzo del portal, significa facciamo solo cose che fanno profitto, significa rivendervi la stessa console con le scocche diverse a un prezzo maggiorato, significa rivendervi la base. Questa è storia recente, ma andiamo avanti. Direzione Xbox. La console Microsoft si è trasformata nel giro di pochi mesi in un limite insostenibile, è cosa ben peggiore e nessuno sembra davvero sapere cosa farne. Phil Spencer stesso non è chiaro, prima annuncia che le console sono superate e poi la gente smette di comprarle a cambio idea, successivamente vengono annunciati i primi porting su piattaforme Nintendo e Sony con la promessa che saranno gli ultimi. L'ultima risposta di Microsoft, proporre al pubblico degli hardware più costosi delle console che si trovano oggi in commercio e di cui da tempo sono crollate le vendite. In questo caos spunta anche l'interesse verso una possibile Xbox portatile, di cui fatichiamo davvero a capire le utilità, visto che oltre a smartphone e tablet esistono già PC handled che permettono di accedere all'ecosistema Xbox e non solo. Ci sono vari punti qui che uno potrebbe... Ma qua se ti sciolgo la corona, la sciolgo. Ma il problema è che io non sono fanboy, lui lo è, però io voglio dire perché è insostenibile l'Xbox? Sono cazzi tuoi. Continuo la cosa di prima, perché sono cazzi tuoi? Ma perché in qualche modo ti deve dire che non è possibile, cioè se anche oggi tu hai una PS5, c'hai il deserto di videogame e devi giocare in condivisione con PC, va bene così. Cioè qualsiasi cosa Xbox faccia è una merda. Non voglio mai portare il mio essere fanboy calcistico su questo canale. Però allora è come il fair play finanziario, no? Il fair play finanziario non è mai andato in vigore perché altrimenti squadre come Inter, Juve, non si potrebbero iscrivere al campionato di Serie A per un fatto perché ha speso soldi. Ora, se Xbox è come una di queste squadre, diciamo che sta in rosso, è piena di debiti... Serino ti sta dicendo che il tuo stadio ha le sedie sporche e quindi non devi andare a vedere la squadra fatta da campioni. Ma le sedie sporche è la coscienza sporca. No, ho capito? La traduzione è che il tuo stadio ha le sedie sporche, non fa niente che la tua dirigente ha speso milioni per farti vedere giocare campioni. Ma non sei azionista Xbox? Io no, ma probabilmente lui è azionista PlayStation per ragionare così, hai capito? Ma anche questo non ha senso. Non ha senso. Parliamo chiaramente, sa cosa è fatto? Per amor di polemica. Solo per amor di polemica perché non ha nessun fondamento logico, tranne uno che arriverà poi alla fine e ve lo dirò alla fine. Perché Serino si fa una domanda importante a cui io ho la risposta ragazzi, ho la risposta ma ve la darò alla fine. In questo caso non c'è niente di insostenibile in Xbox a un prodotto abbinato all'acquisto della console che è ottimo, che va bene anche da solo, se avete uno smartphone, se avete una handlet, se avete uno smart di voi, se avete un pc non performante o sì, va bene già da solo. In più c'è la console, non ve la comprate? Va bene, guadagnano lo stesso dal Game Pass, continuano a sfornare i giochi. Però la portal è una cacata, non l'hanno detto. La portal è una cacata, non serve niente però. Però c'è anche un altro problema, perché continuano a sfornare i giochi se non li possono far uscire in esclusiva solo su questa console che non compra nessuno? Non compra nessuno, li compro, le vendo sugli altri, guadagno il 70% ragazzi. Andiamo avanti. Il 70%! Andiamo avanti, perché sennò raggiungiamo lo stesso length del video dei Prodigy. Ma non fa niente, l'importante è dirle tutte. No, infatti questo video sarà a lungo. Sarà a lungo. Allora, poi, Valve di sfogo. Oggi che i giochi stanno finalmente arrivando e la concorrenza fa scena quasi muta. Meno male che sei detto da solo. La filiera videoludica di Microsoft si ritrova senza una propria vetrina in cui esporre la merce. Ma che cazzo te l'ha detto? Aspetta, esporre la merce perché per lui parla di una console, capito? No, no, tu ti canta più in fondo. Vetrina dove non esporre la merce significa non prendere la dv su multiplayer.it. No, sta parlando delle console. Eh no, mi pare di no, perché la vetrina c'è. Sei il solito maligno. Sei il solito maligno. Mi dice tutti i giochi che sono usciti. Flavio, cazzo, dopo lo showcase, ti diceva prestalla i giochi che escono l'anno prossimo. Più vetrina di questo. Le uniche Valve di sfogo sono il PC. Quindi app Xbox e Steam. Nome ancora più calzante in questo caso. Anche il simpatico con se stesso. Ma per sostenere progetti come Starfield e Indiana Jones non può bastare. Ed è naturale aspettarsi che i giochi in futuro verranno fatti tracimare verso la prossima console Nintendo e PlayStation. E di nuovo sto fatto. Non è azionista Xbox. Che gliene fotte se non è sostenibile. No, ma gliene dovrebbe fottere perché il 70% di 70-80 euro su un'altra piattaforma sono soldi, sono dividenti. Ma se io fosse azionista Xbox e direi vendimeli pure su internet. Ma non lo è. Non lo è un azionista Xbox. Ma secondo me sì. A questo punto per come parla io devo pensare se è azionista, ma non lo è. Flavio, ma se io ho l'esclusiva console. Ma ragiono con un suonare del cazzo, scusatemi. Se io ho l'esclusiva console e quindi o ti compri la mia console, soldi che non ti metti in tasca tu, o non giochi sto gioco, significa che in teoria tutti i 70 milioni di utenti PlayStation dovrebbero avere almeno una copia. Quindi ogni gioco esclusivo a PlayStation X deve vendere 70 milioni di gioco, almeno 70 milioni di copia. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Allora io, povero azionista Xbox, so che ho venduto 20 milioni di console. Quindi il mio gioco al massimo può vendere 20, se lo porto su PlayStation, quanti ne vendo? 95 milioni di copie. Certo. Ci perderò il 30% su 75 milioni di copie. Ma sti cazzi ragazzi, sono un mare di soldi, sono una pioggia di soldi. Io voglio vendere su PlayStation. A me dell'esclusiva non me ne fotte un cazzo. Su azionista voglio i moni. E anche a voi come videogiocatori non dovrebbe fregare un cazzo, perché dovete giocare e basta. Non me ne frega se un gioco a voi ce l'avete e l'altro no, perché se passate il giorno a girare la città a fare gne gne io ce l'ho gioco e tu no, avete dei problemi. Va bene, leggi questo passaggio. Nintendo Playbox. Fino a prova contraria la next gen di Microsoft è nei piani, ma a chi si rivolgerà e cosa dovrà offrire per sorreggere l'investimento enorme fatto lato software? Nata a vuoto, stufata dell'investimento. È un azionista. Sì. Era uno che ha votato no all'acquisizione. Se fosse un culturista, oggi Xbox avrebbe gambe da cingolato ostriaco con sopra un torse delle spalle a combattente filippino. Qui poi, qualche filippino dovrebbe un attimo dargli un pugno in faccia. Come compensare? Servirebbe un hardware portentoso e con un sistema operativo strepitoso, magari strutturato attorno all'era. Ma che cazzo c'entra l'investito tanto? Ma che c'entra? Ma con questi prezzi dove vai? Qualche appassionato già sogna una sorta di Steam Machine targata Microsoft. Ma per quale motivo Xbox dovrebbe ospitare Valve regalando gli visibilità al turore i guadagni? Perché Doom arriverà su PlayStation ma non Indiana Jones? Perché vende! Ma sono cazzi suoi! Questo è proprio... Non sembra avere nessun senso. Ma c'è un punto, scusa mi sono interrompo. C'è un punto dove dice, perché devo giudicare caso per caso? Tu! Loro avranno i loro motivi! Soprattutto non puoi decidere caso per caso, dopo che hai comprato quasi la metà dei grossi publisher in circolazione, non puoi lasciare appesi a un filo gli appassionati che cercano di seguire la loro serie preferita che domani potrebbe diventare esclusiva o meno a seconda delle fasi lunari o dei romatismi di Satana e Nadella. Questo è il problema. Ma lasciando stare le fasi lunari, i romatismi... Anche PlayStation è sempre più un publisher, ma nel frattempo ha fatto capire al pubblico che PS5 è una certezza e non una console che potrebbe dissolversi nel giro di uno showcase. Capito? Ma certezza di che? Ma certezza di che? Allora a sto punto, caro Francesco Serino, io mi compro... Non dare dei faziosi a noi, è a fomentare... E fomenti la faziosità, poi dopo la gente ti riempie di merda e dici che te l'abbiamo mandata a noi. È tutta farina del tuo sacco! Tutta farina del tuo sacco! Ma ora leggiamo i commenti, eh? Reggiamo i commenti. Comunque da questo punto di vista, tanto vale comparsi un PC e avere tutto. Ok? Che ti devo dire? Che ragionamento del cazzo è? Mi devi dare una certezza. La certezza di comprare una sola console e avere tutto è differente, perché significa che scegli il PC. La certezza di avere una console come vent'anni fa e avere tutte quelle cose lì e altre no, perché anche vent'anni fa avevi delle cose sì e altre no, no? Sì, certo. Ok? Se per il tuo spasso è fare gne-gne-gne, per me non sei un videogiocatore, sei un gne-gnoso! E cioè, la conversazione videoludica, professionale, pagata, è diventata un'ignosità! Ritorniamo al problema di prima! Nel senso, se non ti compri un Xbox adesso o non fai un Game Pass, vuol dire che te i videogiochi mi piacciono. No, ma lui, allora, tutto il succo di discorso, sì ci sono i videogiochi che mi piacciono, ma Xbox costa troppo. Microsoft dovrebbe dare, lei a me 100 euro per prendermi la console, perché in tanti anni è una merda, chi l'ha detto? Tu! Tu e tutti quelli come te, quando in realtà non lo hai. Chi ha investito in Xbox e nel Game Pass oggi si trova che gioca tutti i santi giorni! Guarda un po', gioca tutti i cazzo di santi giorni, forse anche di più. Qualcuno se lo perde pure, però lasciamo stare, questo non è assolutamente un valore aggiunto, il valore aggiunto è il brand, è la certezza che ti dà PlayStation che ti dice che i giochi narrativi del cazzo non usciranno day and date sul PC, poi escono sei mesi dopo, ma questo è un altro discorso, hai capito? Perché tu ti accontenti di questo? Di stronzate, come tutto il pubblico che ti dice. Ma andiamo alla chiusura, Fog of War, che ha fatto una cosa... Che questa è la nuvola dopo che ti è esplosata dentro la pressione, vorrei sapere questa genovese come gli è venuta. Possibili perle come mixtape, le potenzialità di Howard e il carisma di Fable, la meraviglia di Flight Simulator, la profondità di Stephen King, e lo stupore davanti a Perfect Dark per aver chiuso un ramo di Arkane deve proprio dargli una pista a Dishonored, che ha sbagliato qua, lo so che ha sbagliato. Hai sbagliato pesante. Lascia stare, fai finta che non è... Perché quella chiusa ha fatto Prey? Sì, sì. No, vabbè, però devi stare calmo. Abbiamo assistito a uno showcase, a uno show meno diluito di quello dello scorso anno, ma molto più concreto ed emozionante. Lo scorso anno non era diluito. Peccato sia stato dedicato a una console immaginaria, della quale conosciamo il passato. Perché non ce l'hai! Qual è il problema? Compratela, vedi come è solita. Può regalare noi. Ma col cazzo gli regalo qualcosa a questo! Lavorasse, facesse le ADV e se lo andasse a comprare. Peccato che sia stato dedicato a una console immaginaria, della quale conosciamo il passato, ma non riusciamo a inquadrare il presente, né a distinguere il futuro. Della grande strategia targata di Spencer, o manca ancora un pezzo che non ci consente di capire dove vogliono davvero andare a parare, o è successo nel mentre qualcosa che ne ha scombussolato i piani. L'unica altra possibilità è che questa strategia facesse acqua fin dal principio. Ma per il momento vogliamo provare ad escluderlo, aspettando in pazienti sviluppi futuri che possono finalmente spazzare via questa fitta fog of war. Vuoi sapere qual è il pezzo che gli manca? Sì. Che siamo nel 2024. Sì. Che non si gioca più come quando eri ragazzino tu. Che i ragazzini di oggi, per quanto ti possano fare schifo, vogliono giocare come cazzo gli pare allora, i soldi sui loro li spendono come gli pare. E se tu vuoi ancora quel vecchio mondo in cui, se te compravi la Nintendo, se te compravi la Sega, se te compravi la Playstation, avevi le esclusive per far rosicare i tuoi compagni nel banco, sei fuori tempo massimo. Ma sei fuori tempo massimo come essere vivente, ma soprattutto come divulgatore videoludico. Io ti consiglierei di andare in pensione, perché non puoi più parlare di videogiochi, non hai il polso del presente, non hai il polso dell'industria, non hai il polso. Va bene, già mi commenti. Primo commento. Sì. Il nostro. Io ero partito pagato. Ma che sono questi ragazzi? Sono bravissimi. Anche se, sostanza videoludica, fomentata da Dr. Game, che saluto. Poi dopo facciamo due ghiacchiere per te, perché sinceramente mi sono offeso e te lo dico. Noi saremmo dei youtuberini. Tu c'hai scritto solo tu su quel numero di PSM? Allora ragazzi, ho scritto su tre numeri di PSM. Ho scritto di industria, non di videogame, perché ho sempre detto qui, su Twitch, dovunque, che io di fare recensione non me ne sento. Ho scritto di industria, mi hanno chiesto di parlare di licenziamenti, di parlare di hacking, di parlare di altre questioni. E vi ricordo che sono l'unico coglione su YouTube Italia che vi ha parlato per un anno dell'acquisizione Activision Blizzard e che ha avuto ragione sempre, perché i prestigiosi si sono presa nel culo che hanno detto stronzate. Questo, questo che scrive su PSM di coscienza. Quindi a me le cose che ha detto il dottor Game non mi stanno bene, soprattutto perché me l'ha detto una persona che sta in pantofole a guardare gli altri che si accaparrono a cercare di fare una cultura videoludica, così si sveglia una volta ogni sei mesi, ogni anno e fa un video su una console di 30 anni fa. Complimenti per l'attualità. Prego. E Claudio, te lo meriti. Poi su stanza videoludica, cazzo che come hai tirato una secchiata d'acqua bollente su un pioppo. Sai quanti funghi escono adesso? Io all'inizio ve l'abbiamo detto, noi ci abbiamo provato ad essere bui. No, basta, l'anno prossimo un culo così a tutti. Ok. Così. Leggiamo il primo commento. Vai. Che il nostro. Chi sono questi giochi volosci? Nota a margine. Quegli innominabili, perché non ci nominano mai, 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 dei GCLS e la loro piccola community tossica, fomentano le console war. Questo commento, non so quanti like ha avuto. Spero tanti. Ma passiamo direttamente al secondo. Altrimenti se ti apri un altro po' penso che ci buttano giù tutto. Me ne fotte proprio. Eh, vabbè. Royal Console, fatemi capire. Una bella immagine di Bubble Bob. Fatemi capire, Sony fa uscire una vaccata inaudita come il PS Portal e voi lo sannate. Però un'eventuale vera console portatile, non solo un tabletto sovrapprezzato, fatta ad Xbox, per voi non avrebbe senso. Sony non fa uscire un gioco manco per sbaglio, ma per voi quella che sta in difficoltà è Microsoft. Per colpa dell'esclusiva PlayStation vengono tagliati fuori milioni di giocatori da saghe che da sempre sono state multiplattaforma. Vero. Ma per voi l'unica cosa inaccettabile è che Indiana Jones non esca su PS5. E vi dovete fare in culo. C'ha ragione la cosa. Ripeto il concetto che avevo scritto qualche giorno fa come redazione che ancora fa finta di essere imparziale, quando in realtà ormai lo sanno tutti che siete schifosamente schierati dalla parte di PlayStation. Non vi fate un po' schifo da soli? No, però non devi commentare i commenti. Non devi commentare i commenti. Perché no? Perché poi gli dai ragione? No. Non gli voglio dare ragione, voglio fare un corollario. Devono essere loro a dare ragione o meno ai commenti. Tu non gli devi commentare i commenti. Vuoi fare un corollario, ma non voglio commentare i commenti. Faccio un corollario. Piccolo. Io non credo che questa redazione sia pro PlayStation, io credo che questa redazione spesso, e non semprissimo spesso, non fate tutta l'erba un fascio, perché sta gente che gioca ai giochi e giudica ai giochi. Non fa altro. Ci sono altre persone che pur di attirare engagement, fanno cose del genere, perché si sono resi conto, credono di non contare un cazzo, e quindi il massimo che possono fare è accendere discussioni. Commento 3. Commento 3. Andrea Schietroni. Oh, lo conosco questo. Immagina scrivere questa roba nel momento in cui il titolo più venduto sullo store PlayStation è un gioco Xbox. Sì, ho tibis. Poi c'è il dobro sotto. È vero, è vero, ma PlayStation ti dà le certezze, capito? Le certezze, le certezze che non gioca un cazzo. Però quando uscirà qualcuno se lo pagano. Hai visto che bello che apri spina a GL? Che schifo di articolo, cioè, sai, perentorio, andiamo avanti. Ti potevi impegnare un po' di più. Luca Conficconi. Non so se esiste. Io credo sia il peggior articolo mai letto in più di 30 anni di stampa specializzata. No, no, ce ne sono altri, senza dà sicuro. E Roy Console gli risponde, direi che per come stanno andando le cose a Sony, Serino e compagni potranno, o meglio dovranno, fare ancora di peggio pur di tentare di gettare fango su Xbox. Perché torniamo sempre lì, eh? Xbox non compra di lì. Ma leggiamo Jacopo Carradine. Corradine. Corradine, scusate. Perché pure non lo conosco personalmente. In effetti mancava un direttore al circuito di Multiplayer.it, ma vedo che avete risolto. Faccia da magliaccio, faccia sorridente, vabbè. Guido Passeri, Multisoni ti sei superata. Herbert Balan, articoli da due cento e dove trovarli? No, credo che sia... Ma tu conosci questa gente? Ne ho letto solo di uno. Perché poi Serino potrebbe dire che sono gente maldata da noi e non è così. Ovviamente, ragazzi. Non è così. Allora, se la stampa videologica oggi fa schifo, non è colpa di chi scrive, di chi gli corregge le cose e di chi dice vanno bene, pubblicale. La colpa è di gioco l'onor scemo che va a prendere i commenti di chi dice che quella roba è una merda e gli dà ragione. Ma se è una merda, è una merda. Non è che serviamo noi. Questo è bellissimo. Matteo Bovo, ma che articoli scrivete? Indignatissimo. Non vi fate nemmeno un po' schifo. È indignatissimo. Ti rispondo io, no, perché è mestiere. Che gli frega di voi che vendegliate? Ah, questo è bellissimo. Joe Williams. Non John Williams. Joe Williams. Ma sono dei bambini a dirigere Multiplayer.it? No, è Francesco Letta. Chiedo perché ogni volta che si vedenza la preferenza di tutta la redazione per Sony saltano fuori sempre con questi articoli che sono solo sfoghi di fanatici incalliti. È veramente incredibile il livello di fanatismo verso Sony di tutta la redazione di questa pagina. Questi proprio se ne sbattono del loro lavoro pur di seguire i loro gusti personali. Però posso dire una cosa, fanno un errore, fanno un errore perché questo è top fan e non so di cosa, fanno un errore. È la pagina. Nel senso, il fatto di parlare una merda di Xbox non vuol dire che tu sotto sotto stai sostenendo Sony, nonostante la risultante cosa sia quella. Tu stai facendo incazzare il pubblico Xbox e stai facendo venire a applaudire il pubblico PlayStation. È quello che conta. Allora non gliene frega un cazzo, ma allora non dica il multiplayer. Non gliene frega un cazzo di osannare PlayStation fino a che PlayStation non caccia i soldi dell'RDB. Ricordatevi questo. Cioè non è una cosa di cuore, è una cosa di praticità. Voi vi siete incazzati, avete cliccato. Ragazzi, io l'ho visto oggi a 323 commenti. Guarda questo. Davide Zanasi, fate pena. Indignatissimi comunque. Ma purtroppo Facebook dà voce a tutti, anche a giornalisti da cameretta come voi. No, allora da cameretta no perché purtroppo, e sottolineo purtroppo, parecchie di queste persone lavorano da più di 30 anni. Infatti no. E dopo 30 anni, arrivati a questo punto, dovrebbero dire o cambiamo modo di parlare ai videogiochi, o chiediamo ai cittadinanzi, non c'è più. Vabbè, dobbiamo essere cattivi. E la pensione, ragazzi, è ora di andare in pensione perché non funziona più. Marco Scigliuzzi, io credo che dovremmo smettere di commentare questo tipo di articoli perché in fondo scrivono merda perché questo che oggi la gente vuole è ciò che oggi paga, purtroppo. Io do un bacio in bocca a Marco Scigliuzzi. Troppo, sì. D'accordo. Perché è un'altra persona che diceva, ma poi a Serino l'hai detto così con la blu 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 blu. Questo è bellissimo. Arriviamo subito. Io gli ho risposto, ma tu perché lo leggi? Perché ci clicchi? Enrico Di Clemente, la cosa preoccupante non è tanto quest'articolo, quanto i 68 Claudio che vi hanno messo like. Questo è vero, ragazzi. Che poi erano 68 all'inizio, ora ce ne sono un po' di... Nei like c'è la sagra del disagio. E Mario Metalli risponde, Enrico Di Clemente, è come, nel like c'è la sagra del disagio. Ma è quello che ti ho detto due secondi fa. È quello che ti ho detto due secondi fa. Sì, però voglio dire, è pesante. È pesante, ma è una realtà crudele. Andiamo avanti. Crudele e inutile. Daniele Petrassi. Sì. Mai letto un tale coacervo di bagianate. Seriamente con questo sei andato oltre l'immaginazione. Però c'è la metafola, la pentola a pressione. Dai. Infatti non era probabilissimo. No, era fatta la merda, scusami. Va bene, andiamo avanti. Come passo, come cosa, non fatta la merda. Fabio Dainese. Ma dov'è il nostro caro Luca Forte che dà lezioni di giornalismo e taglia gli articoli? Dov'è? Dov'è lì, Luca? Era domenica, probabilmente era a mare. O se di dopo scrivere il cazzo che gli pare. Ma la collocazione di questa testata giornalistica punta solo ad andare contro Microsoft? O avete anche altri argomenti? Perché siete veramente patetici. Hanno altri argomenti, però sono quelli che non passano. Non mi è piaciuto però Simone Rapisarda, perché dice multisoni.it sono dei marchettari spudorati. Secondo me non è così. No, spudorati no. Solo quando li pagano. Quando li pagano. Anche se, e questo vale per tutti, non vale per Multiplay, anche se dobbiamo sempre capire quanto prima dell'obbligo di scrivere a DB è sponsorizzata, si è stata fatta in sponsorizzata. Che c'erano testate oneste che lo dicevano. Si è sempre dovuto dire, ma tanti. Aum maum. Però voglio dirvi che c'è gente, lo ripeto, c'è gente che scrive di videogiochi e poi ci sono quelli che farmano click così. Oggi Francesco Serino. Il mio socio non ha il dente a vedere. Non ha il dente, è una dentiera. Allora andiamo avanti. E anche oggi i testicoli a Sony li abbiamo succhiati bene bene. Luca Fox Marchetti. Fabrizio Anselmo, sai, rincara la dose. Si sono fatti attendere, ma ne valza la pena. E Luca Fox continua. Sono proprio cani senza vergogna. I peggiori vermilingui alle dipendenze del leader del mercato. Gente senza dignità e morale. Che vende il culo per review copy e trattamenti di favore. Per fortuna sono relegati a dare notizie sui videogiochi. Ti immagini da anni se parlassero di politica? Furfanti per solati. Non commentare questo commento. No, però devo dire una cosa. Siccome questo signore ha nominato le review copy e cose, diranno che le abbiamo mandato noi, hai capito? Allora, per favore Luca Fox Marchetti, ci dici che non ti conosciamo. Non ti abbiamo mandato. Non ti conosciamo, per favore. E che tua conoscenza, il fatto che questo è... Comunque raga, lo ripeto, c'è gente che lavora sui videogiochi. C'è gente. Quelli che vi parlano, lì altro che non capiscono un cazzo di videogiochi. Questo è bellissimo. Sì. Luca Landolo. Che razza di articolo. Giusto per il trastullo dei bimbi minchia. Avevo capito la minchia. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Ma è vero, c'è raggio. Questo c'è raggio. Nicola Mantoni. Nicola Mantoni. Se la smettete di prostituirvi, ve li compro io i giochini, raga. Che però è una bella forma di business, hai capito? Eh sì, effettivamente sì. Basta di ristronzare, ve li mando io i giochi, non me lo basta. Vogliono di più. Questi vogliono il pre-store. Questi vogliono il mignottone pagate dai publisher. Vogliono la vita bella. E tu non gliele puoi comprare. Se i giochi non gli bastano. Perché se gli bastassero i giochi, parlerebbero di giochi, hai capito? Ma vogliamo fare questo video-show adesso, tipo? Ma così, senza fagli, sì. No, tagliamo giusto due, tre cose. Ma lo mettiamo così. Ma che problema c'è? E' tutto per conturia della querela che ci farà? No, querela no. No, querela no. Querela ha detto qualcosa? Beh sì. Però voglio dire... La nostra opinione su questo tipo di giornalismo... Però i commenti li avete fatti voi? I commenti li avete fatti voi. La nostra opinione su questo tipo di giornalismo è che sia assolutamente intimo. Non è giornalismo. No. È tentativo di accaparrarsi, click, buttando delle opinioni... La console wall tira più di fila. Ma Metro UK lo fa meglio. Cioè ti piglia proprio l'estremista che ti dice una marea di stronzate. Se la prende anche con Metro UK adesso. No, Metro UK dà la voce a delle persone veramente estremiste che dicono stronzate come Dio comanda. Però sai che è una stronzata come Dio comanda. Popolo giocante. Pazzino oggi ha fatto una cosa venuta male sotto molti punti di vista. Perché dire che il suo onesto pensiero su questa cosa... A me mi ride la palla, hai capito? Perché non mi... Mi direbbe qualcuno, a me molto caro... Questo articolo era poco a fuoco. Era poco a fuoco. Era poco a fuoco. Allora ragazzi, io voglio dire una cosa e ritorno all'inizio sul perché noi oggi stiamo facendo questo. Allora, si dice in napoletano, fa bene, scordate, fa male e arricordate. Noi abbiamo cercato di fare bene. Come abbiamo fatto bene, avete fatto il cazzo. Che vi pare vi siano approfittati del nostro silenzio e signorinità. La nostra signorinità, la chiamo così, nel non rispondere per dire che era tutta colpa nostra se le cose andavano male. Dopodiché avete preso la palla al balzo e avete cominciato a spremere le palle dell'utenza. Ok? Senza nessuna coniezione di moralità. Ora, ci siamo rotti il cazzo. Sì. Basta. Torniamo a rompere i coglioni a tutti. Sta cosa finisce a querela. Ci fate chiudere il canale. Cioè, più ne fate, noi non ve ne facciamo passare una oggi a nessuno. E vorrei dire una cosa a quello che ha fatto, è stato un commento carino, ma a me l'esempio col cane, fare i cagnolini con Serino non mi è piaciuto. Non siamo cani nessuno. Se io rispetto una persona che poi si scopre essere una persona che non merita rispetto, ho fatto un errore. Non lo farò mai più.